E' fortunato, agente Hannan. A pochi capita di trovarsi faccia a faccia con il proprio sosia. Si chiama Jeremy North, noto anche come... Lee Stevens. Tu lo conosci? Era un marine e io addestravo reclute a Coronado. Gli altri istruttori ci prendevano in giro perché ci assomigliavamo. E' stato tanto tempo fa. Da allora non l'ha più visto? Sam. Agente Hannan. No. Non l'ho più visto. Stevens, alias Jeremy North, è stato congedato con disonore e condannato per frode e furto d'identità. I suoi colleghi alla scuola ci dicono ex membri dell'SBI e della CIA. Stamattina volevano prelevare da un conto vincolato. Ma la banca l'ha impedito. Turner non è morto e loro scappano. Hanno bisogno di denaro. Sotto il vero nome di Stevens ci sono gli indirizzi di una palestra e di un ufficio. Non sono alla palestra, vi conviene provare a cercarli all'ufficio. Non perdete tempo. Non vi sto dicendo come fare il vostro lavoro. Sì, lo sta facendo. Solo un pochino. Posso aiutarla con il caso e cambierà la vita.